Premoto 3, gara 2 nel quarto round del campionato italiano a velocità al Misano World Circuit di circuito Marco Simoncelli, si riparte dalla pole position di Edoardo Boggio sorpreso però da leader di campionato Edoardo Liguori, vincitore già della prima gara quella del sabato proprio davanti a Boggio e a Lorenzo Zanni condizioni perfette anche a livello di temperatura dell'asfalto e subito spettacolo con Boggio e Liguori che provano ad allungare alle loro spalle però iniziano la rimonta Zanni, Tesini e soprattutto Cristian Borrelli Zanni e Borrelli in questa fase di gara hanno un ritmo eccellente sono i più veloci, qui la caduta Baldi che va a cadere e coinvolge in un certo quel modo anche Sponga che però miracolosamente rimane in piedi e che riuscirà addirittura a concludere la gara tentativo di fuga che fallisce perché Boggio e Liguori vengono raggiunti da Zanni arriva anche Cristian Borrelli mentre non riescono completamente ad entrare Gabriel Tesini e per Francesco Venturni Zanni qui alla quercia all'interno trova spazio, va all'attacco, prende la prima posizione ma in realtà nessuno dei piloti di testa riesce a fare la differenza purtroppo in alcune occasioni finisce oltre il track limit Cristian Borrelli verrà quindi penalizzato con un long lap penalty peccato davvero per lui ritorna ancora al comando Edoardo Boggio con Zanni con Edoardo Liguori che prova a sorprendere Borrelli all'interno ma è il problema tecnico per Leonardo Zanni purtroppo si deve fermare il pilota dell'M&M technical team long lap penalty per Borrelli e quindi è volata finale con Edoardo Boggio che regala il successo a Bucimoto Factory secondo Liguori e terzo Borrelli quarto round del campionato italiano a velocità seconda gara del weekend per la Superbike nel round Cisal Misano World Circuit si parte all position per Michele Pirro che ha anche vinto la Racing Night ma la partenza del primo di campione italiano non è positiva finisce largo ed è in coda al gruppo attorno alla settima posizione allunga e ne approfitta subito Luca Bernardi Aprilia nuova 2M2 Racing gran ritmo poi c'è Del Bianco poi arriva Cavalieri anche lui con l'altra Aprilia e poi un fantastico Luca Vitali con onda della scuderia improv Lorenzo Zanetti mantiene la posizione invece davanti a Michele Pirro della partita e anche un ottimo Kevin Manfredi con la Suzuki Penta Motorsport continua la rimonta di Samuelli Cavalieri va a prendere la seconda posizione su Del Bianco arriva l'attacco Michele Pirro passa Zanetti risponde Zanetti all'interno e Pirro cerca di infilarsi nuovamente scivola riprenderà la gara ma attenzione il pilota Ducati Barney Spark Racing chiuderà solo in decima posizione gran sorpasso al curvone Vitali su Del Bianco vince vince Luca Bernardi Aprilia nuova M2 Racing Samuelli Cavalieri non rispetta invece il long lap penalty per il strato di fronte viene penalizzato e finisce quindi secondo Vitali terzo Zanetti e Cavalieri solo quinto Pirro appunto decimo Moto 3 al Nissan World Circuit nel quarto round del campionato italiano velocità round Cisa si riparte ancora con Vicente Pereselfa pole position e vincitore della gara del sabato ma prova subito a sorprenderlo Elia Bartolini e ci sono anche Guido Pini e Nicola Carraro che però scivola malamente in questo modo non ci sono conseguenze per il pilota e forse neanche apparentemente per la moto Nicola rientrerà in gara ma dopo due giri sarà costretto al ritiro Pereselfa allunga Elia Bartolini in seconda posizione Guido Pini è in terza mentre l'ottimo Eric Michiron in quarta gruppone folto degli inseguitori in questo caso è Cesare Piezi che finisce larghissimo di traiettoria è una bella bagarre in questo caso con Lolli con Abruzzo pronto a inseguire c'è anche Amadori ma sono tanti i piloti protagonisti che danno vita a una sfida veramente appassionante davvero molto molto combattuta in questo caso vediamo anche Jacopo Villani Alessio Mattei Mononiana insomma diciamo che davvero tutta la crema della Moto3 a darsi battaglia per la quinta posizione una sfida che dura veramente veramente tanto sempre occhio naturalmente anche i track limit qui a Amadori ancora in bagarre con Lolli e con Abruzzo che prova in un qualche modo a guadagnare la posizione e poi ancora Lolli sempre protagonista e poi una caduta tra Dalio e Mononiana nel finale di gara per fortuna non ci sono conseguenze per i piloti vince stravince ancora una volta Vicente per Ezelfa con la Twix Polito del CP Project Racky Racing Team secondo con Bartolini e Guido Pini in terza posizione con la Beyond della C Racing Team 600 Next Generation dopo la Racing Night vinta da Simone Corsi su Massimo Roccoli e Simone Saltarelli si riparte pole position naturalmente sempre confermata per Simone Corsi subito Andrea Mantovani sfortunato nel finale della Racing Night con la Ducati del Meseroli Racing aggressivo nei confronti di Corsi per cercare di non lasciarlo andare bene anche lo scatto di Fulini si vede anche Luca Ottaviani Emanuele Buscedo Massimo Roccoli questi sono i protagonisti i piloti che vediamo subito nelle prime battute l'allungo di Simone Corsi ma Mantovani non molla arriva l'attacco di Ottaviani per cercare di rimanere con il gruppo dei primi i primi due fuggitivi in realtà gruppo che scorre sempre una situazione abbastanza complicata abbiamo Simone Saltarelli che purtroppo esce di scena colpo di scena abbastanza clamoroso per Simone Saltarelli che aveva festeggiato il podio soltanto poche ore prima appunto nella Racing Night della Next Generation rischia Ottaviani perde il posteriore ne approfitta Andrea Mantovani con la Ducati Mesoroli Racing per andare a riprendere la seconda posizione nel frattempo sono arrivati ritiri per problemi tecnici anche per Bussolotti e Mercandelli mazzate sul loro campionato un campionato che invece spicca il volo per Simone Corsi che va a vincere doppietta a Misano con Mantovani secondo e Ottaviani in terza posizione con la Mavid Racing Service ultima gara per il quarto round del campionato italiano velocità al Misano World Circuit e così come l'aspettato l'onore dell'apertura l'aspettacolo della chiusura al Supersport 300 che arriva dal successo di Ieraci in gara 1 quella del sabato e dalla sua pole position riparte bene Ieraci ma bene anche Cazzaniga bene anche Nunez Roldan bene anche Agazzi sono questi i primi piloti si fa vedere anche Chris Wright si pronuncia una gara molto molto intensa anche se Ieraci prova a forzare il ritmo nelle prime battute ma è grande bagarre e il leader della classifica generale con la Kawasaki del Prodino Racing non riesce ad allungare anzi subisce l'attacco in questo caso di Cazzaniga si fa vedere anche Bright Nunez Roldan davvero una bellissima gara anche Giacomo Zanini molto efficace nella prima parte cerca di guadagnare posizioni importanti è un gruppo piuttosto folto è una lotta spalla contro spalla carena contro carena ad ogni curva in questo caso è Nunez Roldan a prendere il comando su Bruno Ieraci ma davvero i cambiamenti di classifica sono repentini un metro dopo l'altro ancora spettacolo al curvone con Ieraci che trova una via esterna per riprendere la prima posizione stare davanti a Nunez Roldan l'attacco di Emanuele Cazzaniga che nella parte centrale della gara si nasconde un po' e poi ritorna l'attacco con la sua Yamaha Race star rimangono in quattro con Cazzaniga Nunez Roldan Ieraci e Chris Wright a giocarsi tutto nel finale di gara un finale davvero incredibile emozionante la spunta Emanuele Cazzaniga davanti a Nunez Roldan Ieraci sarebbe terzo ma viene penalizzato di una posizione aperto Chris Wright